Anche quella di ieri è stata una giornata di fuoco, complice il vento caldo, fiamme ancora sulle colline di Sarno che hanno devastato la boscaglia sul monte Saretto e la pineta del Voscone, si sono poi propagate su altri fronti. Veniamo dall'ennesima notte terribile per la nostra città, ha dichiarato questa mattina il vice sindaco Roberto Robustelli, Sarno è sotto attacco con incendi che hanno devastato il Saretto e il Saro, da via Bracigliano al Vascone, da Episcopio a Foce. Fumo e cenere sul nostro territorio, distrutti ettari di bosco, combattiamo con fiamme cercando di salvare quanto più verde possibile e quanti più versanti delle nostre montagne. Ci sono uomini e donne che in questi giorni non si stanno risparmiando per aiutare la nostra terra, a loro il nostro grazie per il sacrificio, la professionalità, ci sono mani invece, ha continuato Robustelli, che continuano ad appiccare incendi in zone diverse, in punti molto alti, aree impervie, criminali senza scrupoli che fanno scempio della nostra terra. Ci sono indagini in corso, la nostra piena fiducia alle forze dell'ordine, ai magistrati, alla giustizia, perché si faccia luce su questo crimine e si individuano i responsabili, ha concluso Robustelli. Un altro focolaio si è poi sviluppato sulla collina San Salvatore a Baronissi, l'enorme nuvola di fumo era visibile da chilometri di distanza. La polizia municipale ha allertato gli uomini della protezione civile, i vigili del fuoco e il servizio antincendio della comunità montana. Per ore si è lavorato per domare il fuoco, anche che con il supporto di un elicottero in un Canadair. Fiamme si sono sviluppate nel pomeriggio di ieri, anche tra Nocera Superiore e Rocca Piemonte, lungo le alture che sovrastano le due città.